I Maneskin a Los Angeles, piacevole città degli Stati Uniti d'America. Hanno letteralmente creato emozioni vive, vivide, attive. Questi grandi ragazzi, questa band tipicamente romana, che sta letteralmente ottenendo un successo clamoroso da ormai molto tempo, e lo fa arrivando addirittura negli Stati Uniti d'America, come da ormai molti mesi a questa parte, fanno tour su tour, momenti epici su momenti epici, i Maneskin conquistano Los Angeles. La città viene letteralmente devastata, o meglio arricchita, dalla loro presenza e non passa inosservato. Infatti il successo è planetario da parte di questa band romana che partì da Monteverde, quale pulsante di Roma città capitale d'Italia per arrivare addirittura a città importanti come quelle americane, prima fra tutte Los Angeles. Ed è sold out, è tutto esaurito, grinta, ma soprattutto tanta, tanta, tanta reattività. Sono queste le componenti principali dei Maneskin, che a Los Angeles veramente creano vivide emozioni, algide emozioni, ma soprattutto vanno ad arricchire tutti quelli che hanno sempre amato e stimato la band in questione. Quindi ripeto che hanno letteralmente conquistato Los Angeles con la loro presenza e soprattutto con i loro straordinari brani musicali. Sul palco vi ricordo che si sono palesati addirittura i Coldplay, che si pensava, si pensa ancora oggi, che siano ormai vetusti, che siano ormai andati a deporsi, in realtà non si depongono, anzi non vanno a togliersi, a stacchersi. Bene, complimenti dunque ai Maneskin, il video termina qua, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate. Ciao a tutti e al prossimo video.